KuCoin è un exchange di criptovalute con base in Cina che si sta imponendo come valida alternativa a Binance Ciao, sono Zanedi di Turbola.it e in questa video guida vedremo appunto come registrarsi a KuCoin e come utilizzarlo per acquistare molte criptovalute alternative di cui alcune sono progetti in fase iniziale, quindi stanno ancora per partire e danno tantissimo potenziale di crescita e quindi di guadagno per noi durante tutto il 2018 e il 2019 Seguimi! Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno Prima ancora di preoccuparci di utilizzare KuCoin abbiamo bisogno di un account su un servizio che ci consenta di acquistare Ethereum oppure Bitcoin con addebito su carta di credito In particolare io raccomando Coinbase che nonostante ci siano un sacco di difficoltà con la validazione dei documenti e ci siano delle commissione un pochino elevate è comunque un'ottima ottima risorsa. Se quindi ancora non avete un account completamente validato e funzionante su Coinbase interrompete qui la visualizzazione di questo video, cliccate sul link che trovate qui sotto per accedere alla guida dedicata alla registrazione su Coinbase, completate tutta la procedura lì e una volta che avrete finito Tornate qui per andare avanti con KuCoin Bene, entriamo ora nel vivo della procedura con la registrazione a KuCoin Per raggiungere il sito vi chiedo di utilizzare il link che trovate nella descrizione del video qui sotto per consentirmi di ottenere una piccola commissione sul vostro acquisto Grazie in anticipo se lo farete Se invece non volete farlo, nessun problema, potete collegarvi direttamente a KuCoin.com Una volta atterrati sul sito di KuCoin, cliccate sul pulsante Sign Up in alto a destra per accedere al modulo di registrazione Inserite quindi il vostro indirizzo email e scegliete una password Mi raccomando che sia piuttosto robusta e che sia utilizzata solamente per accedere a questo specifico servizio Confermate poi la vostra registrazione A questo punto vi verrà inviata un'email all'indirizzo che avete specificato con un link per l'attivazione Cliccateci quindi sopra di modo da atterrare di nuovo alla pagina di KuCoin con l'attivazione Eseguite login con un utente password che avete scelto e sarete dentro al pannello dal quale operare A questo punto dobbiamo attivare l'autenticazione a due fattori E sono d'accordo con voi che sia una gran scocciatura ma è obbligatorio farlo Cliccate quindi su settings in alto e poi su google 2 step sulla sinistra A questo punto prendiamo lo smartphone e seguiamo i seguenti passaggi Installiamo l'app google authenticator disponibile per android oppure ios Apriamo l'applicazione appena installata Clicchiamo sul pulsante di aggiunta di un nuovo account Quindi su android è quello rosso nell'angolo in basso a destra Scegliamo leggi il codice a barre Spuntiamo la cam dello smartphone verso il pc Fino a inquadrare il codice a barre visualizzato a schermo Il telefono dovrebbe riconoscere il codice QR nella pagina E creare un nuovo account Detto elemento mostrerà d'ora in poi il codice numerico Che dovremo inserire sul sito ogni volta che ci verrà richiesto Quindi o al momento del login oppure quando eseguiremo delle operazioni un pochino delicate Quindi ad esempio il versamento oppure un'operazione di acquisto Ora torniamo alla pagina di KuCoin sul pc E digitiamo nel campo a destra il codice temporaneo visualizzato dall'app di google authenticator Confermiamo ed il gioco è fatto Una gran scocciatura sono d'accordo con voi Arrivati a questo punto dobbiamo accreditare sul nostro conto KuCoin Dei Bitcoin oppure degli Ethereum Trasferendoli dal nostro conto Coinbase Verso il wallet Quindi il nostro portamonente privato che abbiamo su KuCoin Cosa scegliere tra Bitcoin oppure Ethereum? Io consiglio caldissimamente di lavorare con degli Ethereum come moneta di partenza Quindi con degli ETH Il motivo è che la rete Bitcoin in questo momento in cui registro il video almeno è sempre molto intasata Quindi ci sono dei costi per le transazioni estremamente elevati Invece la rete Ethereum è un pochino più rapida e i costi di transazione sono sensibilmente più bassi Quindi dobbiamo procedere in questo modo Spostiamoci quindi su KuCoin Clicchiamo sul collegamento Assets dalla barra blu di navigazione in alto E quindi Deposit sulla sinistra A questo punto dal menu di selezione a centro pagina Cerchiamo la moneta ETH Quindi quella di Ethereum abbiamo detto per i motivi appena espressi Fate bene attenzione che nella lista di centro pagina ci sono varie icone che rappresentano Appunto sono simili a quelle del progetto Ethereum Ci interessa in particolare quella con il simbolo ETH Una volta cliccato sull'icona giusta Verrà visualizzato l'indirizzo del nostro borsellino Ethereum su KuCoin E' qui che dobbiamo inviare gli Ethereum da scambiare con la criptovaluta alternativa che desideriamo ottenere Quindi torniamo su Coinbase Acquistiamo degli Ethereum con il debito su carta di credito se ancora non li abbiamo E quindi seguiamo la procedura che abbiamo esposto sempre nel video originale della guida a Coinbase Per inviare gli Ethereum al nostro indirizzo del wallet su KuCoin che abbiamo appena trovato Attendiamo quindi i tempi tecnici necessari perché la transazione sia confermata da tutti i vari nodi della blockchain E ci ritroveremo finalmente il capitale visualizzato anche su KuCoin A questo punto possiamo tornare alla voce overview cliccando sulla voce di menu di sinistra Quindi clicchiamo sul piccolo filtro, l'icona del filtro di fianco all'icona Available Amount A questo punto clicchiamo filter per nascondere tutti i wallet su KuCoin che non hanno nessuna valuta caricata Rimarrà quindi solamente il nostro Ethereum che abbiamo appena accreditato Ora siamo pronti per comprare la criptovaluta alternativa che desideravamo fin dall'inizio Quindi dalla barra di navigazione in alto clicchiamo su Markets e dopo di che dalle varie tab disponibili Clicchiamo ETH per visualizzare il mercato Ethereum Dal campo di ricerca adiacente immettiamo il codice della valuta alternativa che vogliamo comprare Quindi ad esempio OMG per Omisegu, NIO oppure PRL che identifica Oyster Pearl Che è una delle criptovalute crescenti che ho segnalato nell'altro mio video sulle migliori investimento per quelle a piccola capitalizzazione Dopo aver cliccato sulla riga che mostra la valuta che vogliamo acquistare Si apre un cruscotto con un grafico che mostra l'andamento del prezzo della criptovaluta alternativa rispetto al nostro Ethereum nel tempo Uno storico degli acquisti e vendite che andremo a fare e altre operazioni utili ai trader esperti Ci potrebbe essere richiesto il codice di Google Authenticator, se così è visitiamolo per proseguire Ora, so che per chi non è esperto di trading l'interfaccia può essere un pochino difficile da capire Ma in realtà non è necessario comprendere il funzionamento di tutte le opzioni disponibili Se vogliamo semplicemente fare un acquisto di criptovaluta possiamo rivolgere la nostra attenzione nell'area in basso, nell'angolo in basso a destra In particolare nel rettangolo buy A questo punto per acquistare la nostra criptovaluta bastano veramente tre clic di numero Per prima cosa rivolgiamo l'attenzione nella lista verde che troviamo in alto e clicchiamo sul primissimo risultato della lista Quindi sul primo numero che troviamo in alto in verde Questo copierà il valore nel form sottostante Dobbiamo quindi cliccare sul pallino più piccolo all'estremità destra della barra ratio all'interno della sezione buy E infine inserire concretamente l'ordine cliccando appunto buy Ripeto rapidamente la procedura con l'aiuto di un'immagine perché so che questo è il punto un pochino più cruciale di tutta l'operazione Allora abbiamo detto per prima cosa dobbiamo individuare la lista di numeri in verde nell'area in alto e cliccare sul primo numero della lista Ok? Questo copierà il numero in basso Quindi rivolgere l'attenzione alla barra ratio quindi quella dove ci sono i vari pallini e cliccare sull'ultimo quello all'estrema destra A questo punto per inserire l'ordine basta cliccare buy e il gioco è fatto Ora dobbiamo solamente attendere che come si suol dire domanda e offerta si incontrino Quindi che si arrivi una proposta di un venditore disposto ad accettare appunto di venderci le sue monete digitali al prezzo dell'ordine che abbiamo appena inserito Non appena questo si verifica il nostro ordine passa da quelli che sono in attesa di essere evasi allo storico Possiamo vederli sulla sinistra dove c'è scritto available orders e dealt orders Con sta luce in faccia non ci vedo mai un accidenti Ok a questo punto appena effettivamente data buon fine l'operazione della trattativa di compravendita Possiamo tornare alla lista quindi alla panoramica di tutte le nostre criptovalute disponibili su Kucoin che possediamo E dovremmo trovarci oltre all'Ethereum, ai fragmenti di Ethereum che sono rimasti ancora sul conto Anche la criptovaluta che abbiamo appena scelto Complimenti ce l'abbiamo fatta Cosa fare una volta che abbiamo ottenuto le criptovalute alternative che ci interessa? Io sconsiglio di lasciarla sull'exchange per un semplice motivo Se viene craccato l'exchange ci rubano tutte le nostre monete Oppure se per qualsiasi motivo l'exchange cade quindi va giù non è più disponibile In un momento in cui siamo interessati a portarcele a casa oppure a venderle su un altro exchange Siamo di nuovo fregati Quindi cosa si fa? Le si trasferisce dal conto dell'exchange quindi dal borsellino dell'exchange verso un wallet locale che vogliamo conservare sul pc Quale software utilizzare dipende solamente da qual è la criptovaluta alternativa che abbiamo appena acquistato Per la maggior parte delle monete io sconsiglio di utilizzare l'ottimo Exodus Di nuovo qua sotto trovate la guida completa per scaricarlo e utilizzarlo Mentre se invece Exodus non supporta la criptovaluta e l'abbiamo appena acquistato Non ci resta altro da fare se non rivolgerci al wallet ufficiale A questo punto diventa un gioco di attesa Dobbiamo semplicemente aspettare qualche mese Quanto ovviamente dipende solamente dall'andamento del mercato e nessuno può saperlo Però orientativamente tre oppure sei mesi Che la criptovaluta che abbiamo acquistato cresca di valore Una volta che il prezzo sarà esploso e sarà andato alle stelle come vi auguro che sia Potremmo andare a venderla Quindi seguiamo esattamente la stessa procedura che abbiamo appena visualizzato Quindi login a KuCoin Accediamo all'area di scambio, al cruscotto che permette di vendere appunto moneta e comprarne degli Ethereum Prendiamo il nostro Ethereum, li riportiamo su Coinbase facendo un trasferimento da wallet a wallet Secondo sempre la procedura che abbiamo appena visto ma al contrario Una volta che sono su Coinbase liquidiamo la nostra posizione in Ethereum E ci facciamo accreditare gli euro A questo punto gli euro li possiamo bonificare sul nostro conto corrente E abbiamo fatto soldi appalate via euro Bene, in questa guida abbiamo visto come utilizzare KuCoin per acquistare criptovalute alternative Nella mia esperienza il servizio funziona molto bene È sempre veloce, l'interfaccia è amichevole, non ho rilevato alcun problema E le tariffe, quindi i fee, sono sempre più che accettabili Da zaniediturbola.it è tutto Se il video vi è piaciuto cliccate sul pollice in alto qui sotto E se volete continuare a seguirmi cliccate iscrivi per essere notificati ogni volta che carico un nuovo video Alla prossima, ciao!